ciao ragazzi un saluto da zebra bianco nera allora in questo video voglio parlare innanzitutto che l'ugani ha avuto il coronavirus notizia ufficiale sul sito della juventus di esera alle 11 l'ugani è stato positivo al tampone e purtroppo questo problema di coronavirus per l'ugani si diffonderà in tutta la squadra perché adesso anche allenatore tutti i giocatori nello spogliatoio il presidente paratici tutti quanti avranno questo problema si diffonderà speriamo di no e speriamo di no speriamo che non succeda un cazzo ecco un cazzo io una cosa che ti devo dire riprenditi presto daniele riprenditi presto e ritorni in campo a battagliare come prima in difesa battagliare supera questa battaglia come ne superate tante caro daniele riprenditi presto daniele la nostra juventus ti aspetta adesso saranno anche problemi per amare di ronardo che ha avuto ritus e ronardo e portogallo e può avere anche lui il coronavirus e può essere rischioso per amare che ha avuto ritus c'è anche da pensare questo ragazzi adesso spero che la partita di cento se sia l'inviata non vuoi fare prendere provvedimenti e il provvedimento è di sospendere e rinviare le partite di sempre si vedono poi il perché anche l'interna il coronavirus adesso noi rimaneremo in quarantena per 14 giorni come l'inter e circa una mezz'oretta fa si è saputo che anche real madrid è quarantena quindi in questo momento secondo me neanche Manchester City real madrid è da non far giocare quindi la UEFA pigliasse sti cazzo dei provvedimenti speriamo che ritorna tutto a posto che anche la situazione adesso nel nostro paese a livello di salute economico ritorni tutto nella norma nella normalità come tutti noi vogliamo e la situazione in casa di Juventus si sistemi al più presto possibile bene ragazzi con questo è tutto ti auguro buona guarigione Dani e riprenditi presto fino alla fine forza di Juventus buona giornata ragazzi ciao